Sono qui con Stefano Vanelli, il presidente del Tridinum, e chiedo a lui un commento su questo inizio stagione ottimo della sua squadra. Sì, abbiamo iniziato bene questa stagione, felici del risultato dell'anno scorso, siamo riusciti ad arrivare ai playoff essendo il primo anno, sono abbastanza contento del risultato ottenuto e quest'anno stiamo ripetendo, sembra che la stagione stia andando bene, adesso siamo secondi in classifica e quindi sono soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto fino ad ora. Il Mon Grando è la favorita del Gironi oppure ce la potete fare? La speranza è quella di farcela, però il Mon Grando è una bella società, già l'anno scorso anche lei è stata prima per la maggior parte del campionato e le ultime giornate ha mollato e non è riuscita a salire, quindi anche quest'anno lei sta ripetendo una buona stagione e sembra abbastanza favorita. In questa prima fase di stagione cosa pensi poterà fare in più la tua squadra se c'è qualcosa che poterà fare in più? Sì, abbiamo perso tanti punti, diversi punti per strada, per pareggio comunque sconfitte in cui eravamo in vantaggio e siamo comunque riusciti a perdere per disattenzioni e aver preso le partite sotto gamba, questo è l'unico rammarico che posso fare per il momento. Abbiamo parlato di Mon Grando e di Tredino, un'altra squadra che può dare fastidio? Quest'anno ce ne sono diverse, per esempio il Canadà che è sceso dalla seconda e anche il Caresana si è fatto una buona squadra, sono abbastanza competitive. Ok, grazie Stefano.